Salve amici e amanti della musica rock No, senti la musica lounge La senti? Sembra di stare terme Io mi sento un po' alle terme Ed ecco un gioco che avrei potuto modellare pure io Ma perché siamo entrati qua, abbiamo visto solo le opzioni Che c'è scritto full screen, window e the menu E tu col menu torni indietro Ma perché bevi? Che dovrei parlare un sacco Perché le parole serviranno per descrivere questo gioco Start! Questa è senza dubbio più infrescante Guarda Plains La smetti Plains Misia, pagaci, almeno mandaci una cazzo di caccia d'acqua Comunque il mio product placement è comunque molto meno ridicolo Che in un futuro distopico ci sia la Monster Giusto? Quello ridicolo è che tu devi bere tre volte Per arrivare al 25% Non va a due Poi per fare il 5% in più devi bere la terza Quella è una cosa Quella è Kojima Lì sei stato perfido Ma tu non hai ancora visto una parte del medico? Sai che La Monster viene potenziata? Tu dici Chi è che mi potenzia la Monster? La Bridges No, un medico Ti potenzia l'Energy Drink Comunque volevo far vedere ai nostri amici Perché stiamo parlando di Rock Simulator Secondo me ci sarà tanto da fare Tu parti con Plains Vai avanti il livello 5 Poi vai avanti Livello 10 P-Planes 15 20 e 25 Perché ci sono 5 livelli per ogni tipologia di terreno Plains Vabbè solo quello Posso dire che graficamente mi piace veramente un botto? Sta caricando Guarda giù Vedi sta caricando Secondo me no Dici che è proprio il livello? Secondo me Noi abbiamo mai aperto il gioco eh Però secondo me Arriva al livello 1 E cambia e diventa livello 2 E poi ricomincia a ricaricare Come ti dicevo Lo posso fare pure questo gioco Questo non è neanche un rendito Livello 2 Ero come dicevo io Siamo arrivati al livello 2 Però le pietre si sono moltiplicate No quelle sono coglioni Ehm Mi sta bene voglia di giocare a Death Stranding Voglio trasportapacchi per favore Fatemi portare una persona non menomata Sulla spana Sulla schiena Guarda sta imbrunendo Guarda è tramonta Ma che bello Ho tolto pure la musica Per far godere appieno di questa Beh E' passata una nuvola Perché non vuole essere il sole Che sta scomparendo in un'altra parte Non che non siamo su un altro mondo Vuoi vedere che siamo su un altro mondo Quando ricordiamo le notifiche di disabilitarle Quando capito Allora Siamo al terzo livello Posso dire che le boss fight sono delulenti? Tu sai che stiamo facendo un video totalmente inutile? Non è vero è un gameplay su Roxy Oh ragazzi questo è un canale di gaming Qui si gioca Quando c'è un gioco interessante noi lo proviamo Però stiamo per arrivare al quinto livello Quindi cambiamo anche scenario per un po' Almeno vediamo quanto è il timer Con 47 e 48 48 Ricordati 47 e 48 Credo che sia un paio di minuti 757 rocce intanto Volevamo parlarvi di cose serie Perché raccogli rocce? Qual è il concept di questa? No credo che le rocce si moltiplichino Come i pani e i pesci Sì ma le rocce per mitosi Che cos'è? Perché si dovrebbe moltiplicarsi un counter là sopra? E' il punteggio Io non vedo l'ora che cambiamo livello Ti giuro Che cosa ti aspetta al livello 4? Che cambia il scenario oppure che arriva il 5? No il 5 è ancora qua Quindi il 5 e poi carica tutto Ogni 5 livelli Eh no poi il prossimo dovrebbe essere il deserto Beh quello del 5 livelli ce lo siamo spoilerati In colpa mia perché lì C'è scritto un po' il livello Ok 977 Pietre Ragazzi un risultato mai visto Allora come sappiamo che ci sono 5 livelli per ogni ambiente Perché all'inizio L'hanno visto Sì abbiamo fatto il conto Però magari che cazzo ne so Questo ne ha 2 L'altro ne ha 7 Però che lo dobbiamo tutti da 5 No stava scritto 0 Cioè 0 no ma iniziavi poi 5, 10, 15 vendi Non è che lo usavano tutti 5 Guarda il cielo Guarda il sole E' durato 3 minuti Livello 6 Come livello 6? E questo non ce l'aspettavamo E' un plot twist tremendo Livello 6 siamo ancora E' un plot twist Ma cazzo fammi almeno girare l'inquadratura Vogliamo vedere se ha sbloccato un livello Il tuo pc ha un problema non può bollire con sto gioco Che ne sai che questo è ottimizzato come il culo? Non si vedono i frame per secondo Potrebbero essere 3.000 Sì ma anche se fosse ottimizzato con il culo E' come livello 7? Che stiamo a scherzare? Mi sa che cambierà a livello 10 Menù Store Ma non c'erano nemmeno all'inizio Le skin Ma che Di plastica La plastica di merda Alien Ti piace? Non lo possiamo mettere Le ricompramo? Solo questo Store Lo compri in pietre? In pietre Alien o 2 milioni 2 mila possiamo arrivare Picnic Madonna quando è brutto Ma voglio l'alieno Cioè tu ti rendi conto? Quello d'oro costa 10 mila Non lo possiamo prendere perché siamo poveri Anche se avrei una gran voglia di attivare il cheat engine Qua lo freghino un attimo col cheat engine Vado in menu Vado su start Ah si è sbloccato il deserto E rinizi dal 7 Ha un salvataggio Ma chi se l'aspettava? Ma è bellissima la schermata del deserto Scusami Ma chi si aspettava questa cosa che ti iniziasse direttamente dal 7 livello? Adesso capisco perché non si muove l'inquadratura Eh Cioè questo è un rendering incredibile Cioè dove lo trovi un gioco con questa grafica? Sicuramente fotogrammetria Ma sai quanto ha venduto sto gioco? Poco credo Secondo me ha venduto un botto Io penso di fare una bella cosa Ma appena finiamo di registrare sto video Clicco sul rimborso Così per un fondorto a nessuno Che tanto Due ore non ci arriveremo mai Mi sa che tutto il pomeriggio lo passeremo a fare in borsi Perché Redez oggi si è sbizzarrito Ho comprato un po' di gioco Ho comprato un po' di gioco Ho comprato un po' di gioco Quasi quasi Cazzo dobbiamo arrivare al decimo livello Mi sta avvenendo un cazzo di sonno Ma secondo me è fatto Secondo me questo è fatto per le persone che soffrono di insonnia Soffri di insonnia? Rock Simulator Allora se soffri di insonnia ti do un consiglio Questa è una cosa vera Sai come mi addormento? Quando vivevo ancora a casa dei miei Ma dici quando usavi la mazza Te la piavi qua No Quando stavo ancora a casa dei miei Io avevo Nella stanza avevo tipo un televisorino del merda Un Mivar E per fortuna riuscivo ad attaccarci Il lettore DVD E quindi avevo il mio bel dischetto con i miei film preferiti Sai il film che mi metteva a nanna in 40 secondi? Pensavo allo screensaver del DVD Quello se mi svegliavo alle 3 di notte vedevo quello No Che casino con Pierino Ma un film allega Oh stiamo arrivando quasi al decimo livello Tu dovresti vedere Allora mo in questo video Facciamo la reaction di Reddits ai primi due minuti di Che casino con Pierino Così capisci? L'ho visto che è quello che non compie con Alvaro Vitali Eh ce ne sono tanti però Quello di Mila possiamo Fermi Fermi che ci abbiamo E vediamo anche la nuova E funziona anche me Beh Skin Mo la dobbiamo equipare Scusate ragazzi non sapevo niente Guarda che bello E in più Possiamo andare al menu Fare start E andare nello spazio Ma Con la skin La skin Equipata Lì E' tutto contato E la roccia si muove perché sei nello spazio Ed è texturizzata malissimo Male 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 Ecco il minimo di sforzo Porca troia raga Guarda che brutto materiale Sembra di plastica E beh perché mo per te ti sape pure che materiale alieno è Plastica Le cose attaccate male Schifo guarda che merda la superficie È messa proprio male male Bravo eh Bravissimo Valeva la pena Ma d'altronde D'altronde Mettiamoci un secondo e mezzo nei panni Dello sviluppatore Questo dice ma chi cazzo è che compra la skin della linea Cioè noi Chi è che passa più di dieci minuti a guarda sta cosa che gira Allora adesso facciamo la reaction di reddits ai primi Scusa ma perché questa cosa non va bene Ma non la possono vedere loro Però possono sentire Ma la metto su youtube La metto su youtube E ma ci fanno un copyright E poi la mettiamo in piccolo Va bene Oh mi dispiace chiudo un attimo questo Ci vediamo su youtube fra poco Alza alza il volume alza Cos'ha spinguto? Mi piace la fotografia? Vabbè dai Negli anni ottanta Il nostro macete italiano Pace all'anima su Cazzo Sono lì Perché stai a pia Lui sta sopprimendo Allora Lui non gli vedi Perché mi ha Di sabbia così Nella nebbia Più sfuggirla potrai E accanto a me tu resterai Perché ridi? Ti voglio tenere Tenere Legata con un raggio Io non ho che ridi però Così col suo calore La nebbia Svanirà E il tuo cuore Riscaldarsi potrà Questo è il regista Facciamo un minutaggio Perché mancano dei pezzi Buongiorno Per l'amore che c'è C'è tu signora Mara Che se sembra allegra Oggi a me Mi ruote tanto il culo Oh bene Pure di prima mattina Sei già nervosa Non è che sono nervosa È che mi ruote proprio Saranno le denoide Le meringhe Vuoi dire le morroide? Boh Ce l'hanno quelle Perché non vai a farti visitare? Io fammi vedere il culo Da no Non sia mai Per carità Con i zazzoni Che si fanno Gli sordi Con i culi Dell'andri Beh calma Ti ci vuole pazienza 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 Lascia fare Che il caffè Lo faccio io Sono Mara Posso andare a giocare Rock Simulator Il caffè Lo faccio io Io sono napoletana E lui Ho pure il plot twist Napoletana Cioè io ti giuro Io non so quante volte la sera Ho provato a guardare Che casino con Pierino È arrivato a questo punto qua Ma pure quelle serate Che dicevo Ma stasera sto proprio carico Ho fatto il risolino Oggi pomeriggio BAM Io questa parte Non la superavo E se vai avanti Mica cosa che sto fare Veramente bene Il caffè napoletana E tu prepara la colazione Prepara la colazione Quando la caffettiera borbotta Tu spegni il gas Ma lascialo borbottare un po' Hai sentito cosa ha detto Perché poi si ricollega Una bellissima battuta A parte sta musica qua Ma le zia Non è figlio No qua è Tipo lui Vabbè Orfa Non ho capito bene Non hai capito bene Dopo tutti questi anni Ma è molto confusa Dalla trama del film Mi piace questo Lui è un ragazzo Faceva la pubblicità di Pantenne Ma che fa? Perché lo spegne? Ma signor Tu mi hai detto Di lasciare la borbottare Prima di spegne E per un coma Così esce tutto Ma la colazione Non l'hai preparata Il latte Il burro La marmellata I toast Ma quando la ce devo fare Tutte insieme? Ci stanno attendendo Un caffè? Mica so come quel percio Che con occhio Friggere il pesce E con l'andro Diene a padre il gatto Eh? Ho capito Qui mi tocca fare tutto Da sola No Ma ci fate signora Preparo io la colazione Dunque Burro La marmellata E i toast No I toast non li toccare proprio Ci penso io Ricordati questa cosa Non li toccare proprio Ricordati Ma posso smettere di guardare O la devo guardare? Ma arriviamo almeno Alla grande scena dei toast Perché lei svegliarla a mano No È come una Una mina anti-uomo La mente è lì Che poi Che poi E' arrivata da ieri Capito? Hai detto Non li dovevo toccare proprio Fa ridere perché È quell'andigenio Beh Comunque Ah beh Questa la vediamo Perché Basta Scusami cara Ciao Beh questo è come mi sveglio io la mattina Non è niente di Scusami cara Io ti giuro Di sera non sono mai arrivato a questo punto Cioè mi accoppava molto prima Sofì Tu quindi per vedertelo tutto Te lo sei visto la mattina? Sì Più di una volta poi Poi mi sono affezionato Però Dico La prima volta Ho provato E mi ha ucciso E mi ha ucciso per una settimana Provate Soffrite di insonnia Che casino compiene io Togliete tutta la parte della sigla Che bella alle grotta Ma questo inizio Con tutti che dormono Con quella che non piglia i toast E con questo che scorreggia Distende ragazzi Che garantito E questo era un gameplay Di Rock Simulator Meno male che abbiamo Giocato a Rock Simulator Insomma Fateci sapere Se volete un altro gameplay Volete vederlo fino alla fine Intanto io faccio il rimborso Così Giusto per